Guys, io ho preso un commento di uno che praticamente mi ha detto Vai un attimo su questo profilo TikTok, vedi che fanno robe con sti qua Ma vediamo un po' cosa succede con questo canale TikTok Ah, comunque ragazzi Allora, il canale si chiama Baby Nosaka E questo è il mio profilo Sì, c'è solo un video che era in cosplay da Yuma Sì, abbiamo capito di cosa parleremo oggi Però, insomma, vediamo questo video Sperando che nessuno ci rompa Vediamo questi video Sperando che non ci rompano le scatole nel frattempo Ma penso che sia italiano, perché comunque è così Vedo Voglio vedere Ditemi chi è questo signore qua che fa questi video Perché io voglio sapere Vediamo un poco Già prezzo che questa cosa, dai Già prezzo tanto Vedrete un po' di ritardo Tipo lag Però posso registrare solo da team viewer Per favore, capitemi Io reputo sempre ste cose molto carine Quello è il bello Lo vorrei fare pure io Perché voi invece rifiutate sempre Perché, insomma, queste cose su YouTube non ci possono mostrare, lo sai? Eh? Non a tutti i torti Vabbè, continuiamo Laura Laura Dina Ecco, è pure Digni 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 Ok Va bene Questa mi ha ammazzato Questa mi ha ammazzato Forse il king del nosachino verrà spodestato Non lo so Andiamo avanti Non commento Un momento Ok Sta facendo la chica dance Però penso Ho un po' paura che ci sia qualche altra cosa Vabbè, mettiamo sempre like nel caso Vabbè, no Giustamente Nosaka fa tutta la parte bella E poi c'è lui che fa M2B E' un po' di razzismo verso l'Ushikage però Sì new Non ce la posso fare Oh mio Dio, Killing Stalking No Scusate Scusate Il primo episodio di Killing Stalking Doveva andare così Non farebbe mai queste cose Non farebbe mai queste cose Però Nishika che è troppo bravo Ok Ha troppa voglia E' un genio E' un genio Questo è un genio Vorrei farle io queste cose Se avessi più libertà Comunque Vedrete i video molto più laggosi Perché purtroppo TeamViewer E' bastardo Se volete andare a vedere questi video E mettere magari like Andate Su Baby Nosaka Che praticamente Fa ste robe Oh mio Dio In effetti loro creano un cuore Però con questi Con i ciuffi Non ci ho mai pensato Non ci ho mai pensato Creano un cuore Con i loro ciuffi Così Che bello Adoro Allora tu non ti puoi sposare con me Perché io Sono già fidanzata Perciò E se Mio ragazzo Questo messaggio È geloso Perciò Sembra la scelta napoletana Non è che forse Allora tu non ti puoi Non sto capendo Sembra della mia stessa zona Non so che piccola Non so che sirenetta Va bene Adoro Aspetta Mi devo mettere like Scusate No Cardi B Vabbè Vabbè Qua è l'ultimo Beh Seguo Assolutamente Mi piace questa cosa Mi piace questa cosa Mi piace questa inventiva Cioè riprendi ovviamente Le scene dei miei pupazzi Oddio non sono mie Cioè nel senso Le cose che fa Le giustamente Le vorrei fare anche io Perché purtroppo Insomma Lei A quanto Lei Perché ormai si è sentita la voce Ha molto più libertà di me Su quello che può portare Ovviamente su TikTok Rispetto a me Che lo porto su YouTube E a volte Non posso manco sfociare In qualcosa di molto più Come posso dire Spinto Ecco Quindi Beh Mi piace moltissimo Questa cosa Sai Mi piace moltissimo Complimenti Voi due Approvate Sì Sì Approvo Approvo Vabbè Soprattutto per la coppietta Sicuramente Non la conosco Viva la Nishiyuma Ragazzi Soprattutto per la coppietta 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 Soprattutto per la coppietta